E cominciamo con il trono di spade di David Binoff. Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, la prima del suo nome, regina degli Andoli, dei Roma e dei primi uomini, signora dei sette regni, protettrice del regno, principessa di roccia del drago, la madre dei draghi, lei, la calisi del grande prato verde, la non bruciata. Ma sul telefono come ti memorizzo? Giusto. È giusto, corretto questo. Sì, perché anche Siri va... Va in casino, sì. Continuiamo con i tre moschettieri di Alessandre Dumas. Dove cazzo è? Dove essere stato un piccolo... È una delle frasi più belle della letteratura mondiale. E continuiamo con Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Saigon. Merda, ancora soltanto Saigon. Sono giorni che sogno di ritornare a casa, invece sono ancora soltanto a Saigon. Anche lei, Ryanair? E vede, ti lascio concludere con una ghost track. Del maestro Sergio Leone per un pugno di dollari. Ehi, gringo. Questa città è troppo piccola per tutti e due. Ok, vado via io. Rubes Taurino, il teatro senza conflitto. Ciao, grazie.